Siamo finiti sulla Nazione di Grosset Siamo finiti sui Non mi conta qua di mettere lì, qui, se no come in caso fai l'allargati, la tiri dritta e me lo schivano così. Va bene, di lì se c'è un po' di lager basta fare questo, con il sentaiettore, ma forza. Va bene, poter prendere il giugno. 3, 3! Molto bene! Ci dì! Bene, perfetto! Out! Out! Grazie! Grazie. 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 Perfetto. Vina. Cinque. Grazie. 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 Brava il numero 2, non è per passare la cazzo d'alzata, che non siamo arrivati fuori in campo. Ok. Tisto, tisto. No. No, bravo. Ancora no, non è stato cadere. e se e 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 Il primo è il ultimo passo. C'è perdita ogni tanto che il selezione è un passo. Buon saldario, il supermerato. C'è un po' la spalla senza insieme. Quattro è il paziente? Non si finta lì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.